formazione e il figlio dell'uomo i promessi sposi capitolo 2 si racconta che il principe di condè dormì profondamente la notte avanti la giornata di racroa ma in primo luogo era molto affaticato secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie e stabilito ciò che dovesse fare la mattina don ammonio invece non sapeva altro ancora se non che l'indomani sarebbe giorno di battaglia quindi una gran parte della notte fu spese in consulte angosciose non far caso dell'intimidazione ribalda né dalle minacce e fare il matrimonio era un partito che non vuole neppure mettere in deliberazione confidare a renzo l'occorrente e cercare con lui qualche mezzo dio liberi non si lasci scarpar parola altrimenti emma aveva detto un di quel dei bravi e al sentirsi imbombare quel lem nella mente don abbondio non che pensava a trasgredire una tal legge si sentiva anche dell'aver ciarlato con perpetua fuggire dove e poi quanti impicci e quanti conti da rendere a ogni partito che rifiutava il povero uomo si rivoltava nel letto quello che per ogni verso gli parvo il meglio o il non male fu di guadagnar tempo menando renzo per le lunghe si rammentò a proposito che mancavano pochi giorni al tempo proibito per le nozze e se posso tenere a bada per questi pochi giorni quel ragazzone ho poi due mesi di respiro e in due mesi può nascere di gran cose ruminò protessi da mettere in campo e benché gli paressero un po leggeri pur si andava rassicurando col pensiero che la sua autorità gli avrebbe fatto i parer di giusto di giusto peso e che la sua antica esperienza gli avrebbe gran vantaggio gli darebbe gran vantaggio su un giovanotto ignorante vedremo diceva tra sé egli pensa l'amorosa ma io penso la pelle il più interessato sono io lasciando stare che sono il più accorto figlio caro se tu ti senti il bruciore addosso non so che dire ma io non voglio andare di mezzo fermato così il poco il poco così un poco d'animo a una deliberazione potrei finalmente richiudere occhio ma che sonno che sogni bravi di dono d'igo renzo viotto e le rupi fughe inseguimenti grida schioppettate il primo risvegliarsi dopo una sciagura è un piccio è un momento molto amaro la mente appena risentita ricorre alle idee più abituali della vita tranquilla antecedente ma il pensiero del nuovo stato di cose li si affaccia subito sgarbatamente e il dispiacere nel più vivo in quel paragone istantaneo assaporato dolorosamente questo momento don abbondio ricapitolò subito i suoi disegni della notte si confermò in essi gli ordini al meglio salzò e sette aspettando renzo con timore e ad un tempo con impazienza lorenzo o come dicevano tutti renzo non si fece molto aspettare appena gli parvi ora di poter senza indiscrezione presentarsi al curato mandò con la lieta furia di un uomo di vent'anni che deve in quel giorno sposare quelle kayama era fin dall'adolescenza rimasto privo di parenti ed esercitava la professione di filatore di seta ereditaria per dir così della sua famiglia professione negli anni indietro assai lucrosa allora già in decadenza ma non però a segno che un abile operaio non potesse cavarne di che vivere onestamente il lavoro andava di giorno in giorno scemando ma l'emigrazione continua dei lavoratori attirati negli stati vicini da promesse da privilegi e da grosse paghe faceva sì che non si ne mancasse ancora a quelli che rimanevano in paese oltre di questo possedeva renzo un poderetto che faceva lavorare a un lavoratore gli stessi e alla un lavoro che faceva lavorare e lavorava egli stesso quando il filatoio stava fermo di modo che per la sua condizione poteva dirsi agiato e quantunque quell'annata fosse ancora più scarsa degli antecedenti e già si cominciasse a provare una vera carestia pure il nostro giovane che da quando aveva messi gli occhi addosso a lucia era divenuto massaio si trovava improvvisto bastantemente e non aveva a contare con le fame comparve davanti ad un abbondio in gran gala con penne di vario colore nel cappello col suo pugnale nel manico del manico bello nel taschino dei calzoni con una certa aria di festa e nello stesso tempo di braveria comune allora anche agli uomini più quieti l'accoglimento incerto e misterioso di non abbondio fece un contrapposto singolare ai modi gioviali e risoluti del giovanotto che abbia qualche pensiero per la testa argomento renzo tra sé poi disse sono venuto signor curato per sapere a che ora la comanda che ci troviamo in chiesa di che giorno volete parlare come di che giorno non si ricorda che si è fissato per oggi oggi replicò donna abbondio come se ne sentisse parlare per prima volta oggi oggi abbiate pazienza ma oggi non posso oggi non può cos'è nato prima 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 di tutto non mi sento bene vedete mi dispiace ma quello che ha da fare è cosa di gran poco conto di un poco tempo e di così poca fatica e poi e poi e poi e poi che cosa e poi c'è degli imbrogli degli imbrogli che imbrogli ci può essere bisognerebbe trovarsi nei nostri piedi per conoscere quanti picci nascono in queste materie quanti conti sa da rendere io sono troppo dolce nel cuore non penso che a levar di mezzo gli ostacoli a facilitar tutto a far le cose secondo il piacere altrui e trascuro il mio dovere e poi mi toccano dei rompio rimproveri e peggio ma col nome del cielo non mi tenga così sulla corda e mi dica chiaro e netto cosa c'è sapete voi quante e quante formalità ci vogliono per fare un matrimonio in regola bisogna ben che io ne sappia qualche cosa disse renzo cominciando ad alterarsi poiché me ne ha già rotta abbastantemente la testa questi giorni e dietro ma ora non si è dirisbrigato ogni cosa non si è fatta tutto ciò che si doveva fare tutto tutto pare a voi perché abbiate pazienza la bestia sono io che trascuro il mio dovere per non far pesare alla gente ma ora basta so quel che dico noi poveri curati siamo tra l'incudere nel martello voi impaziente vi capisco povera giovane e i superiori basta non si può dir tutto e noi siamo quelli che andiamo di mezzo ma mi spieghi una volta per qualche cos'è quest'altra formalità cosa da fare come dice e sarà fatta sapete voi quanti sono gli impedimenti di rimenti che vuol dire che io sappia di impedimenti error condizio votum cognatio crimen cultus disparitas bis ordo ligamen onestas si sissa finis cominciava a dire dell'amboglio contando sulla punta dalle dita si piglia gioco di me interroppe giovane che vuol che io dica faccia del suo latinorum dunque se non sapete le cose abbiate pazienza e rimettetevi a chi le sa orso via caro renzo non andate in collera che sono pronto a fare tutto quello che dipende da me io io vorrei vedervi contento vi voglio bene eh quando penso che stavate così bene cosa vi mancava vi è saltato il grillo di maritarvi che discorsi sono questi signor mio proruppe renzo con un volto tra l'attonito e l'adirato dico di dico per dire abbiate pazienza dico per dire vorrei vedervi contento e insomma insomma figliolo caro io non ho non c'ho colpa la legge non l'ho fatta io e prima di concludere un matrimonio noi siamo proprio obbligati a fare molte cose molte ricerche per assicurarci che non ci siano impedimenti ma via mi dico una volta che impedimento è sopravvenuto abbiate pazienza non sono cose da potersi decifrare così su due piedi non ci sarà niente così spero ma nonostante queste ricerche noi le dobbiamo fare il testo è chiaro è lampante ante qua matrimonium denuncet le ho detto che non voglio latino ma bisogna pur che vi spieghi ma non le ha già fatte queste ricerche non le ha fatte tutte come avrei dovuto vi dico perché non le ha fatte a tempo perché dirmo che tutto era finito perché aspettare ecco mi rimproverate la mia troppa bontà ho facilitato ogni cosa per sentirvi più presto ma ma ora mi sono venute basta so io e che vorrebbe che io facessi che aveste pazienza per qualche giorno figlio il caro qualche giorno non è poi l'eternità abbiate pazienza per quanto siamo a buon punto penso fra penso fra se non abbondio e con un fare più misteri manieroso che mai disse in quindici giorni in quindici giorni cercherò procurerò quindici giorni o questa sì che nuova se fatto tutto ciò che ha voluto lei se fissate il giorno il giorno arriva e ora mi viene a dire che gli aspetti quindici giorni quindici riprese poi con una voce più alta e stizzosa stendendo il braccio e battendo il pugno nell'aria e chissà quale diavoleria dovrebbe attaccata a quel a quel numero se don abbondio non l'avesse interrotto prendendogli la mano con amorevolezza timida e premurosa via via non valterate per a bordo il cielo vedrò cercherò se tra una settimana e all'uscita che devo dirgli che è stato un mio sbaglio e i discorsi del mondo dite pure a tutti che ho sbagliato io per troppa furia per troppo buon cuore c'è stata tutta la colpa addosso a me posso parlare meglio via per una settimana e poi non ci sarà più altri impedimenti quando vi dico ebbene avrò pazienza per una settimana ma ritenga bene che passata questa non sopporto non mi appagherò più di chiacchiere intanto la riverisco e così detto se ne andò facendo a don abbondio un inchino men profondo del solito e dandogli un'occhiata con le più espressiva che riverente uscito poi e camminando di malavoglia per la prima volta verso la casa della sua promessa in mezzo alla stizza tornava con la mente su quel colloquio e sempre più lo trovava strano l'accoglienza fredda e impacciata di don abbondio quel suo parlare stentato insieme in paziente quei due occhi grigi che mentre parlava erano sempre andati scoppando qua e là come se avesse avuto paura di incontrarsi con le parole che gli uscivano di bocca quel farsi quasi nuovo dal matrimonio così espressamente concertato e soprattutto quell'accennare sempre a qualche cosa non dicendo mai nulla di chiaro tutte queste circostanze messe insieme facevano pensare a renzo che ci fosse sotto un mistero diverso da quello che don abbondio aveva voluto far credere sette il giovane in forse in un momento di tornare indietro permetterlo alle strette farlo parlare più chiaro ma alzando gli occhi vide perpetua che camminava a dinanzi a lui ed entrava in un articello pochi passi più distante dalla casa le diede una voce mentre essa priva l'uscio studiò il passo la raggiunse le ritenne sulla soglia e col disegno di scovar qualche cosa di più positivo si fermò ad attaccar discorso con essa buongiorno perpetua io speravo che oggi sarebbe stati allegri insieme ma quel che vuole dio il mio povero renzo fatemi un piacere quel benedetto uomo del signor curato ma impastocchiato certe ragioni che non ho potuto ben capire spiegatemi voi meglio perché non può o non vuol maritarci oggi oh vi par che egli che io sappia i segreti del mio padrone l'ho detto io che c'era mistero sotto pensò renzo e per tirarlo in luce continuo via perpetua siamo amici ditemi quel che sapete aiutate un povero figliolo ma la cosa nasce il povero il mio caro renzo è vero riprese questo sempre più confermandosi nei suoi sospetti e cercandosi di accostarsi più alla questione è vero soggiunse ma tocca ai preti trattare male coi poveri sentite renzo io non posso dire niente perché non so nulla non so niente ma quello che vi posso assicurare è che il mio padrone non vuol far torto né a voi né a nessuno e lui non c'è colpa chi è dunque che c'è colpa domandò renzo con un concertato certato trascurato ma col cuore sospeso e con orecchia allerta quando vi dico che non so niente in difesa del mio padrone posso parlare perché mi fa mal sentire che gli si dà carico di voler far dispiacere a qualcuno povero uomo se pecca è per troppa bontà c'è bene a questo mondo dei bibriboni dei prepotenti degli uomini senza stivore di dio prepotenti biboni penso recchio renzo questi sono i superiori via disse poi nascondendo a stento e la citazione crescente via ditimi chi è ah voi vorreste farmi parlare e io non posso parlare perché non so niente non so niente è come se avessi giurato di tacere potreste darmi la corda che io non vi che non mi cavereste nulla di bocca addio e tempo perduto per tutte e due così dicendo entrò in fretta nell'orto e chiuse l'uscio renzo rispostole con un saluto tornò indietro pom piano per non farla scorgere del cammino che prendeva ma quando fu fuor di tiro dall'orecchio della buona donna a lungo il passo in un momento fu sluscio di donna bondio entrò entrò andò diviato al salotto dove l'aveva lasciato ve lo trovò e corso verso di lui con un fare ardito e con gli occhi stralunati che novità è questa disse al donna bondio chi è quel prepotente disse renzo con la voce di un uomo che si è risoluto ad ottenere una risposta precisa chi è quel prepotente che non vuol che io mi sposi lucia che 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 balbetò il povero sorpreso con un volto fatto in un istante bianco e floscio come un cencio che esce dal bucato e pur brondolonde spiccò un salto dal suo schicciolone per lasciarsi per lanciarsi sull'uscio ma renzo che doveva aspettarsi quella mossa gli stava allerta vi balzò prima di lui giurò la chiave e se la mise in tasca ah ah parlerà ora signor curato tutti sanno i fatti miei fuori di me voglio saperli per bocca anch'io per bacco anch'io come si chiama colui renzo renzo per carità badate a qualche fate pensate all'anima vostra penso che io lo voglio sapere subito sul momento e così dicendo mise forse senza abbedersene la mano sul manico del coltello che riusciva dal taschino misericordia esclamava la gran voce fiocca donna bondio lo voglio sapere chi ve l'ha detto no no non più fandonie parli chiaro e subito mi volete morto voglio sapere ciò che ho ragione di sapere ma se parlo sono morto non mi ha da prendere la mia vita non mi ha da premere la mia vita dunque parli quel dunque fu proferito con un tale energia l'aspetto di renzo divenne così minaccioso che donna bondio non poteva più nemmeno sopportare la possibilità di subidire mi promettete mi promettete mi giurate disse di non parlarne con nessuno di non dire mai lo prometto che farò uno sproposito se lei non mi dice subito il nome di colui a quel nuovo scongiuro donna bondio col volto e con lo sguardo di chi all'imbocca alle tenaglie dei cavadenti proferì donna donna ripete a renzo come per aiutare il paziente a buttare fuori il resto e stava scurvo con l'orecchio chino sulla bocca di lui con le braccia tese e i pugni stretti all'indietro Don Rodrigo pronunciò in fretta il forzato precipitando quelle poche pesillebe e strisciando le consonanti parte per il turbamento parte perché rivolgendo pure quel poca attenzione che gli valeva libera a fare una transazione tra le due paure pareva che volesse sottrarre e fare scomparire la parola nel punto stesso che era costretto a metterlo fuori a cane urlò renzo e come ha fatto cosa gli ha detto per come come rispose con voce quasi sdegnosa donna bondio il quale dopo aver così un così gran sacrificio si sentiva in un certo modo divenuto creditore come vorrei che la fosse toccata a voi come toccata a me che non c'entra nulla che certamente non mi sarebbe rimasti tanti grilli in capo e qui si fece a dipingere con colori terribili il brutto incontro e nel discorrere accorgendosi sempre più di una gran collera che aveva in corpo e che fin da allora era stata nascosta e rivolta nella e involta nella paura e vedendo nello stesso tempo che renzo tra la rabbia e la confusione stava immobile col capo basso continuò allegramente avete fatto una bella azione mi avete reso un bel servizio un tiro di questa sorte a un galantuomo al vostro curato in casa sua in luogo sacro avete fatto una bella prudezza per cavarmi di bocca il mio malanno il vostro malanno ciò che io vi nascondevo per prudenza per vostro bene e ora che lo sapete vorrei vedere che mi faceste per amor del cielo non si scherza non si tratta di torto di ragione si tratta di forza e quando questa mattina vi davo un buon parere è subito sulle furie lo avevo giudizio io avevo giudizio per me per voi ma come si fa aprite almeno aprite almeno datemi la mia chiave posso posso aver fallato rispose renzo con voce raddolcita verso don abbondio ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto posso aver fallato ma si metta la mano al petto e pensi se nel mio caso così dicendo si era levata la chiave di tasca e andava ad aprire don abbondio gli andò dietro e mentre quelli girava la chiave nella top gli si accostò e con molto serio e ansioso alzandogli davanti agli occhi le tre dita della male della destra come per aiutarlo anche lui dal canto suo giurate almeno gli disse posso aver fallato e mi scusi rispose renzo aprendo e disponendosi ad uscire giurate replicò don abbondio afferrandogli il braccio con la mano trebante posso aver fallato ripete a renzo sprigionandosi da lui e partì in furia troncando così la questione che al pari di una questione di letteratura o di sofia o d'altro avrebbe potuto durare più dei secoli giacché ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento perpetua perpetua gridò a don abbondio dopo aver in vano richiamato il fuggitivo perpetua non risponde don abbondio non sapeva più in che mondo si fosse e accaduto una volta personaggi di ben più alto affare che don abbondio ritrovarsi imprangenti così fastidiosi in tanta incertezza di partiti che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre questo ripiego egli non lo dovette andare a cercare perché gli si offerse da sé la paura del giorno avanti la bella angosciosa della notte la paura avuta in quel momento l'ansietà dell'avvenire fecero l'effetto affannato e balordo si riposa sul suo seggiolone cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa si guardava le unghie sospirando e chiamavali tempo in tempo con voce tremolante stiziosa perpetua 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 la venne finalmente con un gran cavolo messo sotto il braccio e con la faccia tosta come se nulla fosse stato risparmio al lettore i lamenti le condoglianze le accuse le difese e voi solo potete aver parlato e io non ho parlato tutti i pasticci insomma di quel colloquio basti dire che donna bondio ordinò perpetua di mettere la stranga la spra la stanga all'uscio di non aprire più an per nessuna ragione e se alcuno bussasse rispondere dalla finestra che il curato era andato a letto con la febbre salì poi lentamente le scale dicendo ogni tre gradini son servito son servito son servito son servito e si mise da via a letto dove le lasceremo renzo intanto infuriato camminava a passi infuriati verso casa senza aver determinato col che dovesse fare ma con una sbagna addosso di fare qualcosa di strano e di terribile i provocatori i soverchiatori tutti coloro che in qualunque modo fanno torto altrui sono rei non solo del male che commettono ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi renzo era un giovane pacifico e alieno dal sangue un giovane schietto e nemico d'ogni insidia ma in quei momenti il suo cuore non batteva che per l'omicidio la sua mente non era occupata che a fantasticare un tradimento avrebbe voluto correre alla casa di don Rodrigo afferrarlo per il collo ma gli veniva in mente che era come una fortezza guarnita di bravi al di dentro e guardata al di fuori che i soli amici e i servitori ben conosciuti vi entravano liberamente senza essere squadrati da capo a piedi che a un artigianello sconosciuto non vi potrebbe entrare senza un esame e che egli soprattutto egli vi sarebbe forse troppo conosciuto si figurava allora di prendere il suo schioppo da appiattarsi dietro una siepe aspettando se mai se mai colui venisse a passare solo e internandosi con un feroce con una feroce compiacenza e in quale immaginazione si figurava di sentire una pedata quella pedata dall'alzarle chitamente la testa riconosceva lo scellerato spianava lo schioppo prendeva la mira sparava lo vedeva cadere e dare i tratti gli lanciava una maledizione e correva sulla strada al suo confine per mettersi in salvo e lucia appena quella parola gli si fu gettata attraverso di quelle vieche fantasie i migliori pensieri a cui era avvezza la mente di renzo ventrarono in folla si rammentò degli ultimi ricordi dei suoi parenti si rammentò di dio della madonna e dei santi pensuale consolazione che aveva tante volte provato di trovarsi senza delitti all'orrore che aveva tante volte provato al racconto di un omicidio e si risvegliò da quel da quel sogno di sangue così spaventato con rimorso e insieme con una specie di gioia per non aver fatto nulla che immaginare ma il peggio